Allora oggi abbiamo inaugurato la fine dei lavori di restauro delle cappelle di Cerveno. È stato un lavoro lungo, è durato 12 anni, che ha impegnato tante persone e ha ottenuto un risultato secondo me molto piacevole perché ha ridonato una vita alle cappelle che secondo me sono tornate ad essere un santuario, prima che un museo. E quindi dando la possibilità a chi arriva di fare una riflessione anche religiosa, prima di tutto religiosa, e poi volendo anche di poter guardare le opere come opere d'arte.